A te è successo qualcosa in quella grotta e a me su quel volo. Tormentietro. Un legame speciale unisce il nuovo arrivato. Potrebbe essere la chiave di tutto quanto. E rende ancora più intricato il mistero. È uno di noi. Ha lo stesso marcatore nel sangue. Io ti conosco. Non sai dove sono stato o come sono tornato. Allora come sai che sono sempre io? La diffidenza verso i sopravvissuti aumenta. Lei è una re di viva, quindi può curarlo. Non c'è niente che posso fare. Alice! Qualunque sia il potere che hanno, dobbiamo capire come funziona.